Non succede solo a Natale, diciamolo subito. Magari però è bello raccontarlo a Natale. Il piacere del caffè è quello della solidarietà. Qui non lo si offre semplicemente, qui dentro il caffè è sospeso. Siamo accorato, il titolare di un bar del centro ha ripreso un'antica tradizione napoletana della metà dell'Ottocento. Il cliente entra e se vuole paga il caffè per chi non può permetterselo, anche se non lo conosce. Una lavagnetta indica quanti ce ne sono pronti per essere bevuti. L'iniziativa, rilanciata da un sito internet locale, sta riscuotendo successo. Basta poco per far felice qualcuno. E così il bar è diventato meta ideale durante la passeggiata, non solo nel giorno di Natale. Un eventore possidente, ecco questo diciamo un po', entra, chiama un caffè sospeso e automaticamente uno ne prende lui e l'altro lo lascia pagato per chi non ha possibilità, e che oggi ce ne sono tanti, di pagarsi il caffè. Che differenza c'è tra il caffè pagato e il caffè sospeso? Il caffè pagato è in automatico, il caffè pagato invece è sospeso e lo stiamo a scendere, come vediamo noi dalla lavagnetta, per avventori che non hanno, ripeto, la possibilità di pagarsi il caffè. Come sta andando? Benissimo, considerando che da pochi giorni già siamo a quota 15-20 caffè già sospesi, di cui 5-6 già dati. Mi dai un caffè sospeso? Va bene, un caffè sospeso.